Le prime cose concrete bisogna immediatamente approvare i bilanci consuntivi, i bilanci di previsione che non sono stati approvati dall'Aggiunta Uscente per liberare le risorse, per saldare i debiti che si hanno nei confronti dell'impresa e iniziare a realizzare le opere che saranno programmate nel corso dell'anno 2011. La seconda cosa più importante è quella di mettere mano immediatamente per sistemare alcune scuole elementari, alcune scuole medie, anche dal punto di vista della sicurezza, per far sì che i nostri ragazzi vadano a scuola con tutte le garanzie possibili e immaginabili. La terza cosa da fare è il nostro problema che in questo momento affligge gli sportivi catanzarese, risolvere il problema del Catanzaro Calcio. Non è pensabile che una città come Catanzaro, che ha avuto dei passati bellissimi, oggi sia in queste condizioni. È un problema da affrontare immediatamente.